Nel primo turno di ritorno della Coppa Italia regionale non sono di certo mancate le emozioni, è il caso della partita tra Petacciato e Campobasso 1919. All'andata finì con uno scialbo 0-0, mentre al ritorno sono state ben sei le marcature messe a segno dalle due formazioni con la seconda squadra del capoluogo che si imposta con un rotondo 4-2. I gialloneri passano in vantaggio con Casa Languida, ma la Terna nulla per fuorigioco e il primo tempo termina sullo 0-0 senza spettacolo in campo. Nella ripresa è tutta un'altra musica, infatti neanche il tempo di rientrare dagli spogliatoi che i rosso-blu vanno in vantaggio al 47esimo, cross di Barisciani e colpo di testa di Marco Morena. Al 50esimo i padroni di casa arrotondano grazie all'autogol siglato da uno sfortunato mascilongo. Poi il Campobasso 1919 dilaga prima con Barisciani al 72esimo e in seguito al 76esimo con Minichillo. Inutile nel finale di gara per i basso-molisani la doppietta di Impicciatore che realizza due reti al 79esimo e all'89esimo. Anche l'Olimpia Riccia supera il turno battendosi all'andata che al ritorno i lupetti guglionesi sempre per 2-1. I padroni di casa passano il turno grazie ad una doppietta di Cappelletti che sigla due reti al secondo minuto e alla 36esimo della ripresa. I basso-molisani accorciano le distanze e siglano il gol della bandiera al 44esimo del secondo tempo con Coppola ma a passare il turno è meritatamente in Riccia.